La località costiera di Roseto degli Abruzzi è stata scelta quest'anno come sede della celebrazione della 172esima festa della Polizia in provincia di Teramo. Come di consueto l'evento ha visto una notevole partecipazione degli amministratori locali, testimoniando il forte legame tra la comunità e le forze dell'ordine. Il questore Carmine Sorriente nella sua relazione ha sottolineato l'impegno costante della Polizia nel contrasto alla criminalità, nel mantenimento dell'ordine pubblico e nella gestione dei rapporti con i tifosi. Durante la cerimonia sono state consegnate in oreficenze al personale che si è distinto per il proprio coraggio e abnegazione, difendendo i valori di giustizia e legalità. Inoltre sono stati rilasciati i diplomi di cittadino modello a quegli individui che hanno contribuito in modo esemplare al benessere della società. Il questore Sorriente ha espresso orgoglio per i risultati ottenuti e ha ribadito l'importanza di un approccio proattivo alle nuove sfide della sicurezza, un compito che gli uomini e le donne della Polizia affrontano quotidianamente con determinazione.